L'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi nella sede del Centro per l'Impiego di San Benedetto del Tronto, accompagnato dai dirigenti regionali Mauro Terzoni e Roberta Maestri, ha spiegato gli esiti del primo anno di attuazione del programma Goal, nonché le opportunità per le imprese e per i disoccupati che saranno finanziate con il nuovo POR FSE 2021-2027. Sì, noi continuiamo i nostri incontri sul tutto il territorio delle Marche, oggi siamo qui a San Benedetto ma abbiamo già toccato questa provincia anche pochissimi giorni fa, ad Ascoli Piceno, proprio per incontrare i sindacati, le associazioni di categoria, l'imprenditoria diffusa, i nostri centri per l'impiego, quindi coloro che operano direttamente sui territori come regione Marche, cercando di dar una mano a chi è in cerca di lavoro, ma nello stesso momento poi su questo ci torno anche dar una mano a chi cerca dipendenti invece, perché uno dei problemi oggi che sempre più si mette in evidenza è la mancanza proprio di personale specializzato per poter garantire le attività all'interno delle imprese. Come dire, tante persone che sono in cerca di lavoro, altrettante ditte che cercano personale e non trovano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che manca un attimo l'anello di congiunzione per mettere in contatto chi cerca lavoro, prepararlo per quello che all'impresa serve. Questo è un po' l'obiettivo che noi ci diamo, quindi ascoltare l'imprenditoria diffusa, l'associazione di categoria eccetera, per capire effettivamente quello che serve al mercato del lavoro in determinati territori, non è detto che tutti i territori siano simili, e su quelle figure che mancano poi portare avanti i corsi di formazione, attività legate alle politiche attive, quindi a quelli che sono i bandi anche occupazione garantita, in modo che si formano le persone per far sì che un determinato mercato del lavoro venga, diciamo così, incontrato.